Ho dato subito la mia disponibilità, aspetto che il magistrato mi chiami. Sono determinato a proseguire e a realizzare il programma previsto nel rispetto delle leggi, come sempre. Così Roberto Maroni nel suo intervento in Consiglio regionale, mentre in aula l'opposizione attacca e la maggioranza fa quadrato intorno al Presidente. Il Sindaco di Milano Giuliano Pisapia ha presentato alla Camera il dossier sull'accoglienza dei profughi in città, con dati che certificano l'emergenza. L'assessore Maiorino insiste, serve che il governo si muova, siamo stufi delle parole, servono i fatti. Un sequestro da 5 milioni di euro, compresi 124 immobili. Questo il bilancio di un'operazione della direzione distrettuale antimafia, che ha colpito due soggetti riconducibili al clan Mangano. L'inchiesta ha individuato un fitto reticolo di società utilizzate per una consistente frode fiscale. Dopo otto anni si sono conclusi i lavori del parcheggio sotterraneo in Sant'Ambrogio, a Milano. Già smantellate gran parte delle transenne, il taglio del nastro è previsto a breve, questione di giorni. Si chiude così un cantiere che ha creato polemiche feroci. Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione del TGN. Abbiamo aperto e apriamo con la questione relativa all'indagine su Maroni. Il presidente della regione oggi si è presentato in aula per riferire sull'avviso di garanzia ricevuto ieri. Vado avanti nel rispetto delle leggi, ha detto, e attendo che il magistrato mi chiami. Michele Lanati. Attendo che il magistrato inquirente mi chiami, ma sono determinato a proseguire nel governo della regione per realizzare il programma per cui siamo stati eletti, nel rispetto delle leggi come sempre. Lo ha detto il governatore Lombardo, Roberto Maroni, che, come previsto, oggi si è recato in aula per riferire in merito all'avviso di garanzia ricevuto ieri per le presunte pressioni esercitate per far assumere a tempo determinato due persone in società controllate dalla regione. Maroni ha anche voluto rassicurare il Consiglio regionale Lombardo, ricordando che il rispetto assoluto della legge è sempre stato il faro della sua azione politica e precisando che ha raccolto l'invito a presentarsi in Consiglio, ritenendolo un atto dovuto nei confronti delle istituzioni. Lo stesso rispetto delle istituzioni, ha dichiarato il governatore, mi impone però di astenermi dall'esprimere ulteriori valutazioni e giudizi prima di poter leggere gli atti ed essere ascoltato dai magistrati. Come sapete ho ricevuto ieri un avviso di garanzia da parte del dottor Fusco della Procura della Repubblica di Busto Arsizio. Sono assolutamente sereno, sono assolutamente tranquillo, preferisco usare questo termine e allo stesso tempo molto sorpreso. Per quanto a mia conoscenza è stato ed è tutto assolutamente regolare, trasparente e legittimo. Sono fiducioso che le cose verranno al più presto chiarite. Le parole di Maroni sono state precedute da una standing ovation di circa un minuto da parte degli assessori e dei consiglieri di maggioranza e durante il suo discorso non sono mancati gli applausi calorosi dagli esponenti della sua coalizione. Il PD invece ha rincarato la dose, facendo presente che, oltre alle due assunzioni in oggetto, a loro avviso sarebbero altri tre i casi di incarichi sospetti in qualche modo riconducibili alla Lega Nord. C'è una notizia dell'ultima ora riguardo all'indagine che ha in oggetto quei contratti e che ha come indagato Roberto Maroni e il capo della sua segreteria Giacomo Ciriello. È stato sentito questa mattina come persona informata dei fatti la D di Expo Giuseppe Sala, l'hanno sentito i PM di Busto Arsizio, Eugenio Fusco e Pasquale Adesso. Ma sentiamo adesso le reazioni all'avviso di garanzia ricevuto da Maroni. Le raccolte per noi. Massimo Scarinzi. Fronte comune da parte della maggioranza in consiglio regionale a difesa del presidente Lombardo Roberto Maroni. Nonostante le tensioni degli ultimi mesi, tutti i partiti sono accorsi in difesa del governatore dopo la notizia dell'avviso di garanzia. Non penso che la magistratura debba chiudere gli occhi, ma come sempre est modus in rebus. Ce lo insegnavano i latini e ce lo insegna l'esperienza e la storia dell'esercizio del potere giudiziario in tutti i paesi civili del mondo. C'è un modo per esercitare la propria funzione che tiene conto di una complessità di fattori. Non capisco la storia di Maroni, sono due incarichi fiduciari di regione Lombardia che vanno nella direzione comunque di aiutare i rapporti che ci sono con l'estero in vista di Expo. Sinceramente, veramente, io cado un po' dal pero. Dico, ma com'è possibile? Dove stiamo andando? Sta diventando impossibile lavorare non solo in regione Lombardia, sta diventando impossibile davvero fare qualsiasi cosa. Il Partito Democratico parla di un nuovo passo falso della Lega dopo la vicenda Salvini e le consulenze alla compagna del segretario del Carroccio da parte dell'assessorato al welfare di regione Lombardia. Tra i democratici però c'è prudenza. Si cerca di capire quali saranno gli sviluppi dell'indagine e per il momento la parola dimissioni non viene pronunciata. Si inquadra in un contesto che vede regione Lombardia dal punto di vista dell'assegnazione degli incarichi sia quelli apicali interni alla Giunta sia quelli nelle società partecipate assai poco trasparente e che in alcuni casi è anche debordato diciamocelo francamente in una sorta di familismo. Non possiamo permetterci che la Lombardia continui a conquistare le prime pagine per scandali legati a presunti e possibili illeciti. Chi invece ipotizza una richiesta di dimissioni per il presidente Lombardo è il Movimento 5 Stelle per i grillini in caso di rinvio a giudizio del governatore l'unica strada percorribile è quella di andare a nuove elezioni. Nel caso in cui l'indagato passa da indagato quando il magistrato chiede che venga portato a processo quindi vuol dire che ci sono delle accuse abbastanza fondate da portare a processo in quel momento lì Maroni deve dimettersi assolutamente perché il presidente deve essere al di sopra di ogni sospetto. Ancora Expo perché Cantone chiede di applicare il protocollo di legalità a tutti i contratti per poter rescindere quelli firmati con aziende che in corso d'opera vengano coinvolte in episodi corruttivi. Queste le sue parole. Cantone ha anche annunciato lunedì di aver raccomandato alla società Expo di firmarlo quel protocollo. Questa regola avrebbe evitato molti dei problemi che finora si sono verificati, ha detto. Intanto arrivano le prime ammissioni anche dall'ex senatore PDL Luigi Grillo nell'inchiesta milanese con al centro appalti Expo, Sogin e della Sanità Lombarda. Da quanto si è saputo infatti Grillo ha spiegato in un interrogatorio di aver ricevuto 25 mila euro per un appalto Sogin vinto dall'imprenditore Maltauro. Maltauro lo stesso per il quale Cantone ha chiesto al prefetto un parziale commissariamento facendo concludere i lavori di un appalto legato ad Expo con l'impresa seguita però da uno o più amministratori straordinari e costituendo un fondo speciale in cui riversare gli eventuali oneri di impresa. Rubi, l'inchiesta Rubi adesso parola alla difesa la condanna a sette anni di reclusione per Silvio Berlusconi per il caso Rubi di cui la Procura Generale di Milano ha chiesto la conferma e basata non su prove ma su un convincimento su presunte prove in sostanza su delle opinioni. Lo ha spiegato all'inizio della ringa difensiva uno dei due legali dell'ex premier, l'avvocato Filippo Dinacci parlando davanti ai giudici della seconda sezione penale della Corte d'Appello. Non è stato dimostrato il rapporto sessuale tra Silvio Berlusconi e Rubi e sono state usate scorciatoie probatorie per sostenere che l'ex premier fosse a conoscenza del fatto che la ragazza fosse minorenne. Dinacci ha usato parole molto dure per definire poi la giovane marocchina dalle cui rivelazione è partita l'indagine. Una persona disonesta ha spiegato il legale con le istituzioni e con gli altri non credibile e che come spiegato anche da psicologi e operatori sentiti in aula soffre della tendenza a fantasticherie autistiche. Oggi il sindaco di Milano Giuliano Pisapia ha presentato a Roma alla Camera dei Deputati un dossier sui profughi mostrando i numeri che certificano questa emergenza e ora spiega all'assessore al welfare Pierfrancesco Maiorino dopo le parole il Comune esige un aiuto concreto da parte del Governo. Dal 18 ottobre 2013 al 13 luglio 2014 cioè due giorni fa sono oltre 14.000 le persone di nazionalità siriana ed eritrea che risultano complessivamente accolte nei centri del Comune di Milano e si tratta di un flusso discontinuo dunque difficile da preventivare che va dai 13 giornalieri del novembre 2013 ai 225 di luglio di quest'anno è quanto emerso dal dossier intitolato Milano e i profughi presentato oggi dal sindaco del capoluogo Lombardo Giuliano Pisapia alla Camera e più precisamente al Comitato Parlamentare di Controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione Milano insomma non riesce più a gestire da solo l'emergenza profughi e chiede un aiuto concreto da parte del Governo cosa più volte sollecitata anche dall'assessore comunale al welfare Pierfrancesco Maiorino diciamo che noi avanziamo da settimane diverse richieste anche molto precise oggi le ha ribadite con forza il sindaco Giuliano Pisapia adesso chiediamo che il Governo ci dica cosa pensa in maniera chiara che si passi dalle parole generiche ai fatti a livello nazionale che i sì siano sì e i no siano chiaramente no la presenza di oggi la presenza di oggi alla Camera di Pisapia non rappresenta dunque solo un passaggio formale ma un ulteriore tentativo di chiedere al Governo una presa di posizione netta in merito alla questione profughi che riguarda Milano peraltro è già previsto per giovedì prossimo al Viminale un incontro tra alcuni esponenti della Giunta e alcuni rappresentanti dell'Esecutivo per analizzare a fondo la situazione l'amministrazione comunale però non è più disposta ad aspettare ed esige fatti concreti siamo di fronte al fatto che il 27 agosto del 2013 ormai quasi un anno fa denunciamo il rischio della presenza dei profughi e c'era chi ci diceva che facevamo dell'allarmismo e invece dicevamo una cosa che si è poi verificata tutto questo si è realmente compiuto e abbiamo bisogno di risposte immediate e si discute molto oggi a Milano perché di fatto tornano le ronde su iniziativa di un'associazione di commercianti e cittadini del centro l'ASCOM di Porta Venezia che presenterà ufficialmente l'iniziativa domani il debutto giovedì sera quando i primi gruppi di volontari cominceranno i loro pattugliamenti indossando regolari con il numero di telefono a cui rivolgersi per le segnalazioni ovviamente avranno una funzione di controllo e vicinato ha spiegato il presidente ASCOM Luca Longo per ogni evenienza saranno contattate le forze dell'ordine non mancano come detto le polemiche e soprattutto SEL che ci sta dando contro ha detto Longo ma noi puntiamo solo a ridare sicurezza ai cittadini non siamo assolutamente contro i profughi come ha detto qualcuno anche seppure quell'emergenza dovrebbe essere trattata in altro modo alle ronde sulla sicurezza notturna in giro dalle 20 alle 6 del mattino si aggiungeranno durante il giorno quelle anti contraffazione tra i volontari annunciato sempre Longo saranno presenti anche dei cittadini stranieri il comune di Milano ha inoltrato la richiesta a Regione Lombardia per aprire la procedura per lo stato di calamità naturale dopo l'esondazione del Seveso dello scorso 8 luglio la richiesta è avvenuta attraverso il caricamento di dati su una piattaforma online sul sito della protezione civile di Regione Lombardia della prima stima del territorio coinvolto e dei danni subiti dall'amministrazione e dai privati le stime sulla base delle prime valutazioni ammontano a 25 milioni di euro successivamente la procedura prevede una ricognizione più dettagliata dei danni causati a enti locali e privati da comunicare entro 60 giorni Regione Lombardia in funzione delle richieste pervenute dai comuni coinvolti valuterà se chiedere alla presidenza del Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza sul territorio colpito 124 immobili sequestrati in diverse province del nord Italia che fanno riferimento a due fratelli ritenuti riconducibili al clan Mangano anzi ritenuti contabili di questo clan è l'operazione portata a termine dalla squadra mobile di Milano e dalla Guardia di Finanza su richiesta della direzione distrettuale antimafia vediamo il servizio orti orti appezzamenti di terreni frutteti maneggi e un'azienda agricola crema la fazienda Rocco c'è di tutto tra i 124 immobili sequestrati e i fratelli Domenico e Rocco Cristodaro entrambi indagati dalla direzione distrettuale antimafia di Milano per associazione per delinquere di stampo mafioso e produzione di fatturazione per operazioni inesistenti sono ritenuti dagli investigatori i contabili dell'organizzazione mafiosa legata al clan Mangano i due di 47 e 43 anni erano già stati indagati a piede libero nell'ambito dell'operazione della squadra mobile milanese del settembre del 2013 durante la quale furono arrestati otto esponenti del gruppo criminale considerato diretta emanazione di Cosa Nostra siciliana a Milano senza altro possiamo dirlo il centro di imputazione di questa associazione mafiosa era senza altro l'area di Milano tanto vero che la direzione distrettuale antimafia di Milano che fin dal primo momento ha svolto e coordinato queste indagini i fratelli Cristodaro sono titolari di due studi di consulenza contabile a Milano in provincia di Cremona sono sospettati di essere reali proprietari di un consistente patrimonio accumulato nel corso degli anni grazie ad attività illegali come la produzione di fatturazioni false e dissimulate mediante una fitta rete di prestanome l'ordinanza è stata eseguita oggi dopo mesi di accertamenti patrimoniali da parte della guardia di finanza di polizia e carabinieri coordinati dal sostituto procuratore di Milano Alessandra Dolci sequestrati in totale beni per 5 milioni di euro tra cui anche 81 conti corrente bancari i legali di Adam Cabobo il ganese che nel maggio del 2013 uccise tre passanti a colpi di piccone a Milano in zona di guarda e che è stato condannato a 20 anni di carcere con il riconoscimento della semi-infermità mentale hanno depositato il ricorso per chiedere alla corte d'assise d'appello del capoluogo Lombardo la soluzione per incapacità di intendere e di volere Cabobo è stato condannato lo scorso 15 aprile a 20 anni più tre di casa di cura e custodia come misura di sicurezza appena espiata come aveva chiesto il PM Isidoro Palma il GUP Manuela Scuderi nelle motivazioni della sentenza emessa con rito abbreviato ha spiegato che stando alla perizia psichiatrica disposta in fase di indagine non si può dire che la malattia mentale abbia agito al posto del ganese e che quindi fosse totalmente incapace di intendere di volere al momento dei fatti tesi questa invece sostenuta dai difensori che la riproporranno anche nel processo d'appello ancora a cronaca estorceva denaro ad un sindacalista poi divenuto suo amico che aveva aiutato sua moglie a riavere il proprio posto di lavoro riuscendo ad ottenere fino a 25 mila euro l'uomo però è stato colto in flagrenza di reato ed arrestato dagli agenti del commissariato Greco Turro aveva aiutato una donna in una difficile vertenza lavorativa e si è poi trovato costretto a dare continuamente soldi al marito pregiudicato che lo minacciava è la storia incredibile di un sindacalista di 37 anni che aveva assistito una signora alle prese con la perdita del posto di lavoro mentre il compagno si trovava in carcere l'aiuto peraltro era stato proficuo perché aveva permesso alla donna di vincere la causa e tornare a lavorare quando poi il marito Michele Serpa è tornato in libertà ha instaurato un rapporto d'amicizia col sindacalista arrivando ad essere pian piano sempre più in confidenza con lui fino al punto di chiedergli del denaro per far fronte alle problematiche economiche della famiglia richiesta per altra esaudita poi però ne sono seguite delle altre e davanti ai primi rifiuti del sindacalista Serpa avrebbe cominciato a minacciarlo diventando di fatto un estorsore e così nel giro di tre anni visto che la vicenda inizia nel 2011 arriva al punto di dare all'ormai ex amico fino a 25.000 euro ma poi esasperato dalle continue richieste di soldi la scorsa settimana ha deciso di seguire il consiglio di una persona veramente affezionata a lui ribellandosi e denunciando il fatto alle forze dell'ordine e così gli agenti hanno monitorato un appuntamento fissato a Vimodrone tra Serpa e il sindacalista per la teorica innesima consegna di denaro e quando il pregiudicato è arrivato sul luogo in scooter sono usciti allo scoperto e lo hanno arrestato ora dovrà difendersi dall'accusa di estorsione aggravata è difficile per chi è vittima di questo reato odioso riuscire a convincersi a rivelarlo la fortuna per lui è stata di confidarsi con un amico il quale alla fine è convinto a portarsi da noi e a denunciarlo e a denunciare questo reato e a fare in modo che noi lo togliessimo da questa situazione che era diventata insostenibile e adesso parliamo di Renato Vallanzasca che ha una personalità che ancora non si è del tutto affrancata da tratti narcisistici nella percezione del sé e il suo arresto di alcune settimane fa con l'accusa di aver rubato due paia di mutande è un grave vulmus al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento lo scrivono i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano nel loro provvedimento con cui ieri hanno revocato la semilibertà al Berrene il beneficio gli era stato concesso nell'ottobre del 2013 Vallanzasca ricordiamo sta scontando dal 20 marzo dell'81 la condanna a fine pena mai per associazione per delinquere sequestro di persone a scopo di estorsione omicidio e altri reati risponde ora anche di rapina impropria per aver rubato cose di poco valore perché una volta giunto alle casse come si legge nell'ordinanza Vallanzasca usava minacce nei confronti del sorvegliante proferendo al suo riguardo l'espressione se fai scoppiare un casino poi ti faccio vedere io cosa succede dopo otto anni a Milano in piazza Sant'Ambrogio è stata terminata la costruzione del parcheggio sotterraneo oggi sono tante le transenne che sono già state eliminate nei prossimi giorni è previsto il taglio del nastro di questa opera che ha fatto tanto discutere sono serviti otto lunghi anni di lavori e polemiche per completare il parcheggio a Milano in Sant'Ambrogio da questa mattina la piazza è stata finalmente liberata dal cantiere aprendo così la passeggiata che la collega con via Atterraggio un percorso pedonale delimitato da alberi e aiuole dove presto arriveranno anche le panchine restano solo alcune transenne da eliminare prima dell'inaugurazione ufficiale che avverrà nei prossimi giorni via i ponteggi quindi mentre per la consegna dei box sotterranei bisognerà aspettare fine mese sono 570 in totale i posti auto la maggior parte 347 per i residenti gli altri 223 serviranno invece per la sosta a pagamento a rotazione un progetto che risale al 2000 finito sotto inchiesta passato per le mani di 4 differenti amministrazioni comunali i due mandati di Albertini la giunta Moratti e infine Pisapia il cantiere iniziato nel 2006 gli scavi veri e propri nel 2010 un progetto controverso è contestato dai comitati di residenti il centro-sinistra in campagna elettorale aveva promesso con Pisapia che era pronto a metterci una pietra sopra ma la penale da 10 milioni di euro costrinse gli arancioni alla retromarcia abbiamo cercato di concludere in fretta l'intervento lavorando con la sopraintendenza per garantire la massima tutela storico-artistica della piazza un luogo dal grande valore religioso e culturale ha spiegato il vice sindaco di Milano e assessore all'urbanistica Adaluccia De Cesaris per i residenti invece la fine di un incubo lungo 8 anni tra crepe nei pavimenti in casa rumore disagi alla viabilità automobilistica e pedonale su 58 campioni d'acqua analizzati soltanto 20 rientrano nei limiti di legge sono questi i risultati del monitoraggio condotto da Lega Ambiente per determinare lo stato di salute dei laghi in Lombardia e che ha interessato i bacini di Iseo Lario Maggiore Varese e Garda dei 38 siti le cui analisi microbiologiche hanno dato esito negativo 12 sono risultati inquinati e ben 26 fortemente inquinati i dati sono stati presentati oggi a Milano nella conferenza di chiusura della campagna Goletta dei Laghi 2014 la fotografia del nostro monitoraggio dimostra la necessità di investire in infrastrutture foniarie per mettere in sicurezza il lago di Garda da cui attingono 450 mila residenti urge la costruzione di un nuovo depuratore questa la disamina di Barbara Meggetto portavoce di Goletta dei Laghi per realizzare le infrastrutture necessarie a mettere a posto il sistema delle acque in Lombardia occorrono 3 miliardi di euro lo ha detto invece l'assessore regionale all'ambiente Claudia Maria Terzi il nostro TG termina qui dopo di noi la linea passa Luciano Rindone al calcio a Nova Stadio e i suoi ospiti oggi tanti temi ha parlato Toir questa mattina ha parlato Filippo Inzaghi del suo Nuovo Milan per cui dopo la pubblicità e il meteo la linea passa appunto a Nova Stadio grazie per averci seguito buona serata a tutti a Nova Stadio